Ballando con le stelle. La terribile notizia giunta in redazione pochi minuti fa. È stato arrestato. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Sui teleschermi italiani sta per tornare uno dei programmi più amati. Ballando con le stelle. Da oltre 18 anni, il programma ha incantato il pubblico con la sua professionalità e simpatia. Tra i partecipanti celebri degli anni passati, nomi come Raz Degan, Gabriel Garco e Paola Barale hanno incantato la giuria con le loro esibizioni. Quest'anno, Millie Carlucci ha annunciato un torneo interno con i partecipanti della Casa Ventura, tra cui Simona e Giovanni Terzi. Tuttavia, mentre l'entusiasmo per la nuova edizione cresceva, una notizia scioccante ha colpito l'Italia intera. Un ex concorrente amato, Tony Colombo, è stato arrestato insieme alla moglie in un'operazione contro il clan di Lauro. Colombo, un noto cantante neomelodico, aveva partecipato al programma nel 2014. Il talento di Colombo è noto sin da giovane età, ma l'arresto è stato un colpo di scena per tutti. Sposato con Tina Rispoli, ex moglie di un boss. La coppia non era estranea ai guai giudiziari. Questo inaspettato sviluppo getta un'ombra sulla reputazione di Colombo e lascia il pubblico in attesa di ulteriori dettagli su questa incredibile vicenda. La prossima edizione di, Ballando con le stelle, si preannuncia quindi ancor più avvincente e carica di emozioni. Ma con l'amara consapevolezza che la realtà può superare anche la fiction. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.